E' tutto a posto, giusto? Sì? Tutto in regola, tutto tranquillo, vi state divertendo? E' un disastro! Perfetto, giusto? Buongiorno signorina, oggi è una giornata davvero molto calda, vuole un po' di crema abblondante? Oh grazie, è gentilissimo, lei è proprio un ottimo bagnino! E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! E io sono Steph, e che stai giocando a Pulperty Panic? Ebbene sì, oggi ci ritroveremo costretti a fare i bagnini! E non sarà semplice perché avremo a che fare con dei clienti molto molto fastidiosi! In realtà sarà molto semplice perché il tuo Steph si è fatto il... Ah sì? Sì sì sì, ho fatto la guida per diventare un bagnino! Quando? Ieri! Mentre dormivi? Esatto! Ok, nei tuoi sogni? 8 ore di fila, guarda, è stato molto impegnativo! Molto dura, soprattutto! Sono ancora stressato! Però adesso so fare la rianimazione, so mettere la crema da sole, so aprire gli ombrelloni, che è molto difficile aprire gli ombrelloni, perché se sbagli verso colpisci un cliente e lo accecchi, capito? Oppure sbagli e ti si incastra la mano, capito? È molto complicato, molto! Quindi abbiamo dovuto fare una piscina, siamo l'unico bagnino che c'è in questa piscina, dovremo aprire gli ombrelloni, mettere crema abbronzante, i bagnanti non riescono niente a capire quando si stanno scottando, e quindi tu prendi e li butti in piscina? Però questo è realistico, se quando vai al mare sei infogatissimo che giochi, e poi torni a casa ostianato, capito? Esatto! Capito questo questa cosa? Iniziamo subito! Questi siamo noi, guarda come siamo in forma, guarda che corsetta scattante! Pa, 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 bellissimi! Buongiorno clienti! Salve, salve! Eh, ma quanti siete però, per favore? Ma quelli secondo te sono peli sul petto, quelli neri? Sì, sì, sono i maschi alfa! Noi andiamo qua vicini, ok? Ecco un po' di crema! E gli mettiamo un po' di crema, e lui sarà super contento! Ma gliele hai messa sulla maglietta! È felice così! Qualcuno che si sta scottando, lei signora, è un po' viola, vado in acqua! Ma l'hai buttata giù! Così, sì! Ah, me li devi proprio portare in acqua! Sì, 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 perché altrimenti loro si scottano, capito? Ah, ecco! Buongiorno signore, un po' di crema abbronziante? Ecco a lei, prego! Perfetto! Aspetta che le apro anche l'ombrellone, oh sì, com'è felice lei! Anche lei è un po' di cremina, vero? Eh sì, perfetto, così! Lei è decisamente viola, scusi, vado in acqua! Ok! Quello era tutto impiastricciato di crema! Oh, 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 sta per prendere fuoco! Oh, no! Scusi! Buttalo! Scusi, in piscina, per favore! No, in piscina, non nelle rocce! Ecco, incastrato! Vada in acqua! Vada! Anche l'altro! Vabbè! Previeni che lui diventa viola! Questo l'abbiamo fatto perfetto, questo perfetto, questo perfetto, 100%! E i clienti sono felicissimi con un sorrisone gigante, bello, bello, bello! Che bagnino formidabile, che bagnino formidabile! Siamo bravissimi, bravissimi! Questo opererà solo il primo livello! Giustamente! Piano piano arriviamo alle cose un po' più difficili! Penso che diventerà sempre più tosta, sempre più tosta! Allora, dobbiamo mettere 5 volte la crema solare, aprire 8 volte gli ombrelloni, e poi dei super soccer che non so neanche che cosa sia! Dice di usarlo per almeno 5 secondi! Cos'è il super soccer? Non lo so! Vedremo, 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 vedremo! Andiamo! Continua! Ok! Ah, eccolo! Oh, che cos'è? È una pistola d'acqua! E a che serve? Ce li devi sparare! Però come lo prendo? Oh! Ok! Allora, oh, ce lo sto spiegando! Con il tasto destro... E a che serve? Quando si stanno opzionando se non riesci, credo, a buttarli in acqua... A buttarli in acqua, li puoi sparare... E li puoi ricaricare la pistola d'acqua in piscina! Questo gioco è fantastico, e te lo dico, è fantastico! Ma è troppo bello per il bagnino! È bellissimo, è bellissimo! La cosa che mi preoccupa è quanto è grande questa piscina! Sì, 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 è proprio una piscina di quelle estive super giganti! Sarà problematico! Buongiorno, clienti! Tutto bene? Avete visto che giorno splendente? C'è un sole che spacca le pietre oggi! Lei ha una bellissima pettinatura, eh? Oh, belli! Gli copio, questi capelli! All'ultima moda! Fantastici, fantastici! Quanti siete? Scusate! Non finiscono più! Apriamo immediatamente l'ombrellone e mettiamo immediatamente una crema solare! Cerchiamo... Oh, yeah! Oh, 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 qualcuno sta già bruciando! Scusi! Eccoli! Spara lì! Come? Come? L'hai buttato! L'ho buttato! Sì, vabbè, guarda lì in fondo quando ti stanno bruciando, non è possibile! Ma poverini! Scusi? Un po' di acqua? Oh! Va molto meglio, vero? Anche lei! Hai visto come torna blu! Ok, perfetto! Io qua li apro subito gli ombreloni a tutti! Esatto! Ok, così almeno un pochettino quelli che si sdraiano stanno al sicuro da questo sole che oggi è davvero troppo potente! Dopodiché mi preparo e inizio a spruzzare quelli che ne hanno bisogno! Ok, guarda dall'altra parte! Guarda la mappa 1! Vai, corri, corri! Ce lo puoi fare! Forza panino! Forza! Con che velocità! Scusi signore, sta prendendo fuoco! Oh poverino! Oh! Va molto meglio! Sentri magari andrebbe ancora meglio! Ascolta, non mi hanno insegnato anche a sparare, ok? Riapriamo gli ombreloni! Uno, due, perfetto! Stiamo andando bene, siamo a 6 di 8, però non sto facendo mai in tempo a mettere la crema solare! Eh, ho notato! Quindi la metto adesso una volta e poi vado a sistemare quel poveretto che sta bruciando! Poveretto che sta bruciando, venga qui! Scusi, eh! Allora! No! No! Da questa! No! Proprio col fischietto la smetta di bruciare! Esatto! Qui mettiamo l'ombrellone veloci! Ok, altro ombrellone qua veloci! Spruzziamo la signorina! Non dovete togliere l'ombrellone senza il mio permesso, avete capito? Gli sgrociotti! Tu sei rosso! Tieni un po' di acqua! Perfetto! Mettiamo un po' di crema solare! Siamo a 3 di 5 con la crema solare! Quindi serve anche a lui! Scusi signore! No, no, no! Stia fermo! Le l'ho messa alla stessa forza! Quel segno sai cosa vuol dire? No, che sta bruciando davvero? Sì! Dov'è? Qua! Oh mio Dio! Scusi! Dove va? Aspetti! Acchiappalo, poverino! Acchiappalo! Venga qui! Acchiappalo! Non è possibile! Oh mio Dio! È morto! Incenerito! Mi sento in colpa! È un bagnino terribile! Non è colpa mia, scappava! Sei incenerito sotto i nostri occhi! È terribile! Però ce l'abbiamo fatta! Ok! Perché l'obiettivo principale è fare i tre obiettivi! Eh, l'ho capito! La felicità è relativa! Ognuno ha un punto di vista diverso perché è un tosto e felice, no? Sì! Magari a lui piaceva bruciare vivo! D'altronde scappava dalla salvezza, quindi magari si stava divertendo! Non penso che fosse proprio così, però... Non puoi esserne certa! Questo livello te lo lascio buono! Era il primo livello con la pistola d'acqua! E sette volte the slide? Una nuova roba? Di nuovo? Non è possibile! Allora, io inizio ad aprire gli ombrelloni! Eh sì, ovvio, vai! No, nel dubbio prepariamo gli ombrelloni, tanto i clienti stanno arrivando! No! Lo scivolo d'acqua! No! Ma io non ci credo che abbiamo pure queste cose! È fantastico questo gioco, cioè non me l'aspettavo così è bellissimo! Ma dov'è lo scivolo? Ma di qui io non riesco a passare! Allora, lì no, quindi dove sarà? Lo voglio trovare subitissimo! Comunque te lo segna, te lo segna, sì! È da questa, è da questa! Quindi io faccio così! Ed esco da qua! Bellissimo! Con proprio l'uscita scenica! Più bella di quella che io ho fatto su GTA, perfetta! E questo che è? Ok! No! Ah, allora... L'acqua diventa calda! No! Ma non le può fare solo una persona tutte queste cose! Secondo loro sì! Secondo loro dobbiamo farle tutte noi! Adesso l'acqua diventa calda! Dobbiamo stare molto calmi e tranquilli! Lei che sta bruciando vada subito all'ombra! Anche lei! Perfetto! Vedi! Tipo io adesso vorrei buttare un po' di gente in acqua! Butto la pistola! E va per... Secchiello! Dannazione! Io sto già panicando, te lo dico! Eh, lo so, lo so! E infatti si chiama Pulperty Panic! Cioè, non a caso! C'è un motivo, dici? Non a caso, non a caso! Allora, nuota per favore! Vannino che vive nel panico sempre! Attenga! Poi anche lei è decisamente di un colore che non ci piace per niente! Riempiamo un pochettino! Lei sta andando in acqua, quindi si dovrebbe tranquillizzare da sola! Sì, perfettissimo! Allora, proviamo a sistemare un po' la temperatura dell'acqua! Sì, sono d'accordo, sono d'accordo! Vai! Prendo! E mettiamo il ghiaccio! Opla! E lo riempi di nuovo! Ok! Acqua è bollente! No, stanno bruciando! Scusi! Venga! No, ma qua... Dannazione! Allora, lei, lei... E dov'è l'altro? Signore! Da lontano! Ok, l'ho preso! Anche lei, anche lei, anche lei! Tutto a posto, vero? Sì, state bene! Vi state divertendo! Stanno bollendo! Come se fossero delle patate! Sì, ma è la nuova tecnologia! È una sauna! È fatta a posta! È tutta a posto! Non è una sauna! È una fiscina! Sì, sì, no, no! È una sauna! È una sauna! Aspetta che la riempio un po' perché c'è qualcuno che qua arriva bruciando! Buongiorno, signore! Tutto a posto, sì? Buongiorno, anche lei, signorina! Vai, vai, vai! Sei perfetto! Allora, devo prendere il secchiello e tornare dall'altra parte! Esatto! Eh, scusi, signori! Eh, vabbè, ragazzi, eh, sì! Qualcuno brucerà oggi! No, no! Mi dispiace, mi dispiace! No, ma è impossibile! Che è successo, poi? È tutto a posto, giusto, sì? Tutto in regola? Tutto tranquillo? Vi state divertendo? È un disastro! Perfetto, giusto? Forse è un po' di freschetto oggi, mi sembra che non ci sia abbastanza caldo! Quelli brucerano i tuoi balli! Ce l'abbiamo fatta! È andato meglio, è andato meglio! Allora, ho fatto i tre colpi con il coso, ho fatto i dodici di ombrellone, cinque volte su sete sono riuscito a usare, diciamo, lo scivolo, se mi fossi accorto prima, sarei riuscito a fare anche quelli, felicità al 98%, direi che siamo andati bene! Alba i clienti sono stati felici stavolta! Esatto, vedi, livello 1, livello 2, livello 3 passabili, adesso dobbiamo però provare il primo livello del secondo posto! Oltretutto cambia, io non sapevo che potesse cambiare l'ambientazione! Nota che cosa ha di diverso? Cosa? Siamo nel deserto, secondo me! Vedi che questo è un cactus! Quindi c'è ancora più caldo? Allora, massimo cinque clienti che bruciano, cioè ormai è diventata una cosa normale! E sta già diventando viola, quindi un po' d'acqua! Pure lei, signorino, perfetto! Corro, 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 buongiorno! Sì, 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 ha bisogno di un po' di acqua, anche lei, vero? Eh sì, ha proprio ragione, oggi c'è un caldo incredibile! Sì, vuole andare, bravissimo, vedi che lei capisce... Ma si rinfrescano anche stando sotto l'ombrandone? Certo, 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 perché all'ombra comunque non c'è caldo, infatti lui si è sistemato, ne ho visto uno andare verso questa parte, scusi... E' un peperone, lei! Quello è rossissimo! Ehi, no, no, non brucia, non brucia! Tutta a posto, cioè Steph qui a sistemare le cose! Ho avuto paura per un momento, ma qui noi siamo super professionali! Esatto, eravamo già pronti! Scherz! Allora, a questo punto... Che faticaccia! Allora, abbiamo bisogno decisamente... Lei se ne vada in piscina un attimo, vai, bravo, ok! Dicevo che abbiamo decisamente bisogno di risistemare un po' l'acqua! Sì, 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 sì! Prima che diventi troppo tardi, quindi... Opla! Forse è da lì, 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 lì! Sì, vedi? E te ne vai giù! Buon giorno! E' quella acqua sta bollendo! No, non ho portato il secchio! Scusate, torno subito! Allora, non è ancora del tutto rossa! È quasi nella barra rossa, quindi puoi recuperare! Scusate! Corri, fai più veloce che puoi e rinfrescala! Scusate, è un'emergenza qua! Sono anche un pompiere! Ti devo ignorare, scusami! Qua c'è un'emergenza! No! Prendilo! Prendi! Usalo! Che fai? L'ho sistemata? Sì, ok! Un po' bagato, ma l'ho sistemata! L'importante è quello! Signori, dovete assolutamente tornare in piscina! Allora... Ma vedi che sono tutte mosse per prendere il sole? Quelle... Te le dici tu! Di così, di lato! Allora, ho notato! Scusi! Scusi! Quando non vi fate prendere a botte e mi fate arrabbiare! Vada in acqua! Lo vede che è rosso? Si deve riprendere! È un peperone! Vada! Vada! Vada, bravo! Su! Ok! No! No! Dove scappi? Vai in acqua! Vai in acqua, bravo! Uso lo scivolo l'ultima volta! Ti manca una volta di sci... Ah, però non hai fatto... Non ho fatto nulla! Non so cos'è l'Ured, sinceramente! Ah, ma poi dovevano bruciare! Ma davvero? Cioè, dovevo farli bruciare di proposito... Mi sono... No! Mi hanno incastrato! Non posso più muovermi! Vedi? Sono stato incastrato dai miei stessi clienti! Questo è un complotto contro il bagnino migliore del mondo! Stavo andando così bene! Voi mi avete... Sembrano un ragno, guardali! Sembravano un ragno! Ti dicevo, io pensavo che... No, vedi? No, no, me l'ha dato positivo! Potevo farne bruciare massimo 5 e ne ho fatto 0, sono andato ancora meglio! E invece l'Ured che cos'è? Dovremmo cercarlo! Aspetta! C'è Google per noi! Però sono andato da Dio! 100%! Ah sì, a voglia, a voglia, a voglia! Due obiettivi su tre, guarda, alla fine, questo ho fatto abbastanza bene! Questo me la sono cavicchiata bene! Comunque, dai, direi di fermarci così per questo video, è stato davvero divertentissimo! Questo gioco è troppo bellino! Infatti farei volentieri un secondo episodio per finire i livelli, se vi è piaciuto! Così cerchiamo, magari, di completare questo al 100% di felicità! Questo cerchiamo di fare il terzo, diciamo, obiettivo! Qua cerchiamo di fare tutto! E vediamo se riusciamo a completare il gioco al massimo! In modo tale che quest'estate noi andiamo al mare, gli fai vedere questo gioco finito e gli fai Guarda, sono pronto a fare il bagnino, lasciami fare, salvo tutti io! E prenderai fuoco come clienti! Esatto! Spero che se riesci così sia giusto, scendici un like! Questa è la prima volta che avete un nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, e alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie per la visione!